Grazie a tutti. Un'ora di risata. Pensate, ne sarebbero bastati 10-12 minuti. Se noi riusciamo a fare 10-12 minuti al giorno di risata, noi riusciamo ad avere tutti i benefici di cui vi ho parlato l'energia della sessione. Per cui siamo stati molto bravi. Un applauso a noi. Come ce la facciamo la frase? Come ce la facciamo la frase? Assolutamente sì. Adesso faremo un esercizio che noi vi abbiamo chiamato la radio. Avete presente le radio di un tempo? Non quelle dove abbiamo la manopola, no? Sia per cambiare la sezione che per cambiare il volume. Ecco, faremo finta di alzare e abbassare il volume della radio. E quando faremo questa cosa lo faremo con il riporto e con la voce. Quindi significa che quando noi saremo giù, 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 noi faremo... No, non ci saliamo, non ci saliamo, ci saliamo, ci saliamo, ci saliamo, ci saliamo, ci saliamo. No, non mi vuole alzare più, stavo così comodo. Ok, andiamo? Iniziamo a volume medio. Ho, ho, ha, 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 ha. Ho, ho, 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 ha, ha. Ho, ho, ha Ho ho ho! Ha ha ha! Ho 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 ho! Ah no... Isera ero dispecchi i pantaloni Scusami però! Marco, portaci qualcosa fresco che non ce lo vedi! Grazie! Grazie!